Ciao a tutti ragazzi, questa è una nuova guida, la guida di Pokémon Platinum, versione oro. Comunque, noi facciamo pure la parte di Pokémon Platinum, lo faremo insieme. Ok, i nostri Pokémon saranno tipo Acqua, Feraligator, poi tipo Erba, Arcanine, poi come tipo Dragonite, poi tipo Roccia Golem, tipo Volante Buio, forse Hypno, dipende, in che modo si evolve, ditecelo perché noi non ci ricordiamo, oppure se non vi piace Hypno le risiedete voi, per noi è sempre uguale. Ok, ora il Professor Rock ci parlerà, è come la parte di Pokémon Platinum all'inizio, parla anche il Professor Rock. Ok. Questo però, a differenza di Pokémon Platinum, la storia è completamente diversa. Sì, è molto più bella. Ci stanno due regioni, la regione di Kanto e la regione di Yoto. Anche se i Pokémon non avrebbero piaciuto più di Pokémon Platinum. Sì, tranne alcuni. Mi è venuta voglia di catturare Hypno perché oggi avevamo visto la Poképasta, allora stava la storia di Hypno che diceva che se, vabbè, faceva cadere sotto. Allora la volevo provare. Aveva fatto vedere che in Pokémon Platinum una è andata dentro a una caverna dove si trova Gible, dove si deve usare Flash, si deve girare a destra e sta una roccia dove si deve usare Spaccaroccia. Tu ci premi contro ed esce un Hypno. Che veniva in mano? No, che controllava una bambina. E faceva cadere sotto. Allora provate. E poi alcune persone dicevano che se catturavano Hypno si cancellavano tutti i dati. Sì, sì, sì. Avevo pure avuto i dati. E se si cancellano, non so se a Cale. Incomincio da capo. Incominciano tutta la storia da capo. Dipende a Cale. Qua è già tre minuti. Ecco qui, andiamo. Questa prima parte, secondo me, già sarà più... Un po' più lunga. E' stressante. Stressante. Il palido che sa. Sì. Oppure l'attore di Pigi come secondo Bop. O Zubat. O Zubat. 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 Zubat, ok. Ah, io volevo distrappare mia cugina a vedere. Mi sta facendo... Con quella faccia. Mi sta facendo ridere e non riesco a fare il video. Infatti stiamo provando il video da quattro minuti. Oh. Oh. No, quattro minuti. Quattro minuti per tre volte. Una volta perché mi ero dimenticato di cancellare i dati. Un'altra volta perché avevo messo come nome Vincis. E un'altra volta che la mia cugina mi ha fatto ridere. E un'altra volta che non so il perché l'ho cancellato. Ok. Ora ci sarà il Merit della nostra amica che c'entra. Ok. Ha uno stranissimo cappello. Mia cugina che ride. C'è. Ok. Ora se ne sta andando perché sta schiattando a ridere. Mi ha mai visto una cosa di così bella nella sua vita. Ok. Andiamo dal professore. Qui è quello? Il babbino. E quello è rosso. E quello? No, non è rosso. Rubberà. Il suo vero nome è... Io l'ho scoperto. Si chiama Silver. E questo qua si chiama Gold. Chi Gold? Questo è Gold. In realtà si chiama. Ah, Silver e Gold. È vero. Ma sul suo rossa, quello rossa? C'è di via. No, si chiamano proprio questo. Questo Gold e quell'altro rossa. Mamma mia. Eh, quell'altro Silver. Ho visto su Pokemon 1. Leone. Comunque quello... Quello sarà Silver che ruberà... Un Pokemon. Ok, si sta attaccando la mia cugina. Vai via! Via papà! Una forte gara, una rasta. Io lo so, lo so, lo so. Il nostro campanile, anche in questa serie, il più grande bambocci della nostra cagnolina. Andiamo avanti. Ce siamo già sei minuti. Ok, ah, ho scelto il tosserocco, questa parte la faremo molto corta, ok, vai, finiamo, sta già a sette minuti davanti, in questa parte io lo seguiamo allora solo quello che vogliamo seguire, no? Sì, ma poi non lo seguiamo fuori bene. Sì, sì, ci sono altri, ecco. Ok, andiamo a prenderli. Allora, ci sono tre Pokémon, come sempre. Allora, Cicorita, il Pokémon è un tipo erba, che io non prenderò, Cicorita è un tipo acqua, che noi questo prenderemo, e Sina, con il suo fuoco. Cicorita serve solo che a livello 100... No, non è così, devi andare con Seneb, a livello 100, e va nel passato. L'ho fatto... Sì, l'ha fatto vedere dentro... l'ho visto. Comunque, diceva uno in una guida, che con profumino e meganium a livello 100, si attirava Seneb. Non è vero! Però... questo babbo diceva non è vero. No, non è vero! È femmina! Dio... Che grande cacaca! No, no, non lo so, non lo so, non lo so se è femmina! E se sceglie? No, stavo lo disegnando dalla femmina, lo vedo! Allo, femmina, ascoltami, se... Se è femmina, comincieremo da poco! Ma vabbè, se è femmina, non c'è l'unico, non c'è l'unico. Vabbè, no! Spermina la maschina... È femmina, è formina. Info, vediamo l'info. Borgo, è... Mite, naturalmente! Che aumenta la difesa e la difesa speciale. Ma pure di lungo attacco... Usa... Oh! Per livello 5. Quella è l'altro che trovava per livello... 12. Più non è la stessa cosa. Sì, l'altro. Vabbè... Ma no! No! Abbassa la difesa, è veramente la difesa speciale. Non ci ne frega! No! Sì, l'altro. No! 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 e cattureremo potremmo catturere Zubat proprio avanti noi batteremo tutti gli allenatori per la strada per allenare a Toto quindi la possiamo qui vi faremo vedere direttamente come arrivare alla città come si chiama? non c'è ah giusto gli danno delle sparte da adesso 10 da 10 10 secondi e 6 2 un vecchio delle sparte da adesso un vecchio delle sparte da adesso sono passati 10 minuti vabbè ora sta spiegando come si usa il telefono ok usciamo e stoppiamo la parte aspettate stoppiamo la parte fin quando guardate ora perché esce il professore M e poi andiamo avanti fino a fare cosa ma nella prima città non ci stanno nemmeno per il viaggio non ci stanno nemmeno si ci stanno non tutti ci stanno scopriamo scopriamo ok ciao a tutti commentati e iscrivetevi anche al canale di francesco cipinic bambolotto la nostra cagnolina il pollice in su ciao ciao